Ben tornati con l'informazione di Telebari, andiamo subito a vedere quali sono i fatti più importanti di questa giornata. Si è inaugurato con una cerimonia il nuovo anno giudiziario della Corte di Appello di Bari in aumento gli omicidi. All'altissima attenzione sulla mafia garganica. Il servizio di Cristina Ferrini. Cresce il numero degli omicidi volontari che si sono consumati in un anno nel distretto di Bari, 99, 20 in più rispetto al 2016, ben 50 procedimenti scritti per omicidio da infortunio sul lavoro. Non meno allarmante il dato sui femminicidi, anche questi in aumento, 25 casi nel 2017 rispetto all'anno precedente. E quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In diminuzione invece estorsioni, usura e rapine che farebbero pensare, riferisce Cassano, nel miglioramento della sicurezza collettiva. Particolare attenzione della Corte alla mafia garganica e alla pericolosità sociale della criminalità organizzata di quel territorio la conferma nella ferocia, oltre ogni limite, come sottolinea il Procuratore Generale di Bari, Anna Maria Tosto, dei recenti omicidi ai quali, assicura, seguiranno importanti risultati a livello di indagini. Non ultima la questione dell'edilizia giudiziaria nel capoluogo. Il tema è stato affrontato con ottimismo nella cerimonia di inaugurazione, ricordando la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo polo della giustizia. Altra buona notizia, tornando ai numeri, la diminuzione delle pendenze, sia nel settore penale sia in quello civile, nonostante l'aumento dei nuovi procedimenti e le carenze di organico. Il malcontento arriva invece dai principi del foro, che tanto principi non sono, stando alle dichiarazioni del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefani, a margine della cerimonia. È soltanto di recente intervenuta una legge sull'ecocompenso, ma è assolutamente insufficiente. Se noi dobbiamo restituire dignità all'Avvocatura, anche sotto l'aspetto della sua giusta remunerazione, dobbiamo reintrodurre l'inderogabilità dei compensi, perché noi assistiamo a mortificanti situazioni in cui all'Avvocato viene riconosciuto un compenso di 6 euro all'ora, cioè meno delle collaboratrici domestiche e dei dog sitter. Questo non è accettabile, non è assolutamente accettabile. Siamo alla cronaca. 4 kg di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Trigiano in via Virgilio. Lo stupefacente era in possesso di due persone a bordo di un'auto, che hanno cercato di disfarsi della droga, lanciandola dal finestrino. Arrestati un 31enne e un 36enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro episodio di criminalità. Stava cercando di rubare un taxi in Piazza Garibaldi, armato di due grandi coltelli. Un uomo di 43 anni di Bitonto è stato bloccato nella mattinata di venerdì da quattro agenti della polizia locale, che erano impegnati in ordinarie operazioni di controllo traffico. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'uomo ha aggredito il tassista, che era fermo in postazione all'incrocio con via Crispi, scaraventandolo contro un paletto e provando successivamente a prenderne il posto alla guida dell'autovettura. Non accortosi della presenza degli agenti, è stato immediatamente immobilizzato. Con sé aveva due coltelli, uno da 30 e l'altro da 20 centimetri. Il 43enne portato in carcere sarà processato in giornata per direttissima. Siamo alla politica. Dopo una lunga maratona notturna sono stati scelti i quattro capi lista alla Camera, i due al Senato per il PD in Puglia. A Bari la spuntata Marco Lacarra, a Foggia Michele Bordo, a Taranto Baldo Pagano e a Lecce Francesco Boccia. Al Senato invece per Foggia Bari Bat, la capolista è Assuntela Messina, mentre per Lecce Brindisi Taranto è Dario Stefano. Il dato che emerge nella nostra regione è innanzitutto la prevalenza maschile rispetto all'unica donna candidata. In secondo luogo il trasferimento di due pezzi importanti della politica locale, ai quali sono stati assegnati incarichi di prestigio fuori dalla Puglia. Si tratta dell'onorevole Alberto Losacco, che lotterà per un nuovo incarico in Piemonte, e di Teresa Bellanova. La viceministra allo sviluppo economico avrà un posto da capolista in Emilia Romagna. La nottata è stata dunque più lunga del solito e al sorgere del sole la primazia pugliese porta il nome di persone vicine a Michele Emiliano e al sindaco De Caro. Questa mattina, in occasione della giornata della memoria, nella sala consigliare a Palazzo di Città a Bari, è stata deposta una corona presso la targa commemorativa, fissa in onore di Filippo D'Agostino, sindacalista, consigliere comunale, antifascista e vittima della deportazione. Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato l'amministrazione comunale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con l'ARCI, la Camera del Lavoro CGL, la Rete della Conoscenza e il Coordinamento Antifascista di Bari. Un evento per non dimenticare e combattere anche oggi il flagello del razzismo in ogni sua forma. E continua il processo di riqualificazione dell'ex caserma Rossani, il Parco Gargasole, che risorge sempre con tante nuove iniziative. Vediamo quella pensata per questa giornata. Dopo i primi lavori di giardinaggio e piantumazione, il Parco Gargasole prende vita, accogliendo famiglie, nonni e bambini per una festa in maschera molto speciale. Armati di carta, fogli secchi e fiorellini, grandi e piccini si sono dati appuntamento questa mattina nella ex caserma Rossani per realizzare lavoretti con le loro mani. Questa giornata aveva più finalità. Per prima cosa quella di realizzare la pulizia collettiva di questo spazio. Infatti mamme, bambini, papà, nonni, abbiamo preso guanti e sacchi e abbiamo pulito tutto. E poi abbiamo organizzato questa attività per i bambini per realizzare delle mascherine di carnevale con materiali vegetali perché ci sembrava una cosa carina da fare in questo spazio verde anche per avvicinare i bambini alle piante, alla natura. Mi sembra che in qualche modo ci stiamo riuscendo. L'evento rientra nel percorso di rigenerazione del parco promosso dal Comune di Bari con le associazioni Orto Circuito, Masseria dei Monelli, Garden Faber e Paesaggi Meridiani. Un momento di condivisione e creatività all'aria aperta complice la giornata mite. La rigenerazione continua. Attracca al porto di Bari la famiglia Portesan di Novara. Si tratta di una famiglia che ha deciso di mollare tutto e fare il giro del mondo in barca a vela. Guardate. Quante volte vi è passato per la mente il desiderio di mollare tutto e scappare via? Lasciare la routine e partire senza una meta. Prendere una barca e cavalcare le onde, cullati dal mare e accarezzati dal vento. C'è chi lo ha fatto per davvero. Fabio Portesan, 38 anni, di Novara, e sua moglie Marina, 30. Con loro i due figli di 3 e 10 anni, Leilani e Valerio. Per il 95% del tempo siamo super contenti della decisione che abbiamo preso. C'è quel restante 5% quando magari c'è Mare Grosso, come diceva Valerio, che ti chiedi che cosa abbiamo fatto. Però poi appena torna il sole passa tutto. Nessun limite temporale, nessun programma. Nel piano di viaggio solo una breve sosta a giugno per gli esami di quinta elementare del figlio maggiore. La decisione precisa di adottare questo stile di vita l'abbiamo presa quest'estate quando abbiamo detto ok, facciamolo, mettiamo in vendita la casa. Quella che è la difficoltà occupa un 10% del nostro tempo, ma a dire tanto. Per il resto è tutta una grande avventura e tanto tanto entusiasmo. Quanto ti piace viaggiare in barca e stare in mezzo al mare con mamma, papà e la sorellina? Tanto, molto molto. Mi piace anche conoscere nuove persone, nuovi amici che incontriamo quasi sempre fermandoci nei porti. Hanno venduto tutto per inseguire un sogno e realizzarlo anche a costo di viaggiare controcorrente. Prima di ripartire Fabio vuole esplorare un po' di Puglia. Bari gli è rimasta nel cuore. Ieri pomeriggio la loro barca ha attraccato presso il molo San Nicola. Ad accoglierli la presidente del primo municipio, Michela Paparella. Ieri sera sono arrivati i porti San, sono stati accolti davvero molto calorosamente dei referenti dal presidente del circolo Barion. Lei lo farebbe? Mollerebbe tutto e andrebbe via in barca? Non lo so, non lo so, ci devo pensare. Questa sera apertura straordinaria di Palazzi Musei a Bitonto, la città tra le finaliste candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020, apre le porte a tutti coloro che vorrebbero conoscere il suo ricchissimo patrimonio storico e artistico. Una sera di gala con palazzi storici pubblici e privati e chiese accessibili per chiunque voglia visitarli. Per l'occasione è prevista anche una corsa aggiuntiva gratuita del trasporto pubblico a fine serata verso le frazioni di Bitonto, Palombaio e Mariotto con partenza alle 23.30 da Piazza Marena. Un invito per i più giovani, sottolinea il sindaco Michele Baticchio, a vivere in bellezza la città e rientrare a casa in sicurezza. Siamo alla pagina sportiva, Bari in campo contro l'Empoli in una sfida play-off. Le impressioni dell'allenatore del Bari, Fabio Grosso, sentiamolo. Hai detto bene, siamo attesi da delle partite importanti, le quali all'andata purtroppo ci hanno dato tanti dispiaceri. Ovviamente, come facciamo sempre, ne pensiamo una volta, anche perché quella che arriva è una squadra forte, che conosciamo bene e che sappiamo quelle che sono le potenzialità. Noi abbiamo voglia di continuare il nostro percorso, provando a dare continuità ai risultati positivi che stiamo avendo, sapendo che domani lo scoglio sarà impegnativo, però credo che abbiamo tutte le potenzialità per poter fare una grande partita e per poter mettere in difficoltà avversari di primissimo ordine, come sono quelli che arrivano domani. Non siamo stati capaci di farlo fino ad ora contro le squadre, diciamo, sulla carta costruite per un obiettivo ben dichiarato. Ovviamente non vediamo l'ora di poterci riuscire, sapendo che sarà difficile, però sapendo anche, come ho appena detto, che le potenzialità per poter fare una grande partita le abbiamo. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete collegarvi alla nostra pagina Facebook, al nostro sito web www.telebari.it. Grazie come sempre per averci seguito, un buon proseguimento. Amici Trevi Medio, ben trovati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che nel complesso vedrà sul Mediterraneo e sull'Italia la pressione atmosferica aumentare e quindi sarà una giornata con ampie zone di sereno. Vediamo infatti la nuvolosità prevista sul nostro paese, poco o nulla, qualche addensamento al nord, ma in realtà si tratta più che altro di nubi basse dovute alla presenza di parecchie umidità e poi ampie schiarite in tutto il paese. Precipitazioni del tutto assenti, quindi non prevediamo né piogge in pianura né nevicate in montagna, quantomeno nessun fenomeno significativo. Insomma, per farla breve, domenica di bel tempo, l'unico rischio è che nebbie, foschie e nubi basse possano rendere il cielo grigio in pianura padana, non solo nelle prime ore del giorno, ma anche per buona parte della giornata. Chiudiamo con le temperature che nel complesso restano miti, soprattutto al centro-sud. Grazie. 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 Grazie.